Bentornati ragazzi, sono Gabri Costa. Se questo video vi piace, iscrivetevi nel mio canale, commentate e lasciate un mi piace. Dobbiamo eliminare Liquid, riordatevelo. Dobbiamo farlo per il colonnello Campbell. Dobbiamo sapere le informazioni sulla missione. Snake non è come le CMP, non gli serve il suo denaro. Questa è la seconda parte delle informazioni sulla missione che stiamo ascoltando e la guardiamo senza saltare. Snake andrà a accendere il suo fuoco. Se volete cominciare con il primo atto di Metal Gear Solid 4 per fare il sole liquido in Medio Oriente fatelo pure, tanto è lì che vi aspetta. Ora salutiamoci così potete essere iscritti, commentate e basta. Un ciao da Gabri Costa.